Barra inversa. Qatar eccola la prima sorpresa di questo mondiale, e che sorpresa, l'Argentina stecca l'esordio contro l'Arabia Saudita. Capace di ribaltare il rigore di Messi e di vincere 2 a 1. Di ghiaccio il tifo della Seleccion. Che ha riempito lo stadio con bandiere, sciarpe e ritratti di Maradona ovunque. Ma che alla fine è incassato una delusione coccente e del tutto inaspettata che potrebbe rovesciare le sorti del gruppo C con Polonia e Messico. Il fracasso fa rumore e trova ecco in tutto il mondo, soprattutto in Argentina. Dove i siti e i giornali sportivi rilanciano in apertura il crollo della squadra di scaloni, o le parla di golpe mondial. La nation apre con crollo in Qatar, e il clarin scrive duro golpe, ambito sceglie sorpresa mondial. Virgola.